Buongiorno, io oggi voglio parlare di Andriotto, secondo me è una cosa importante, non è una cosa che... Quindi da una considerazione, secondo me è sbagliato Andriotto, perché per me è una brava persona, brava persona nel senso che non ci dice, non è feste, Andriotto è ingenuo proprio, Cioè noi ci mandavamo feste in senso che è troppo buono, non è che fosse chissà che cosa. Cioè, se mi ho detto su, in Italia, i stragi, i complotti, tutte le uccisioni, la mafia, non si accorti niente, perché è troppo ingenuo, voi vi è giudicato, ma non è così. Vedete, come è ingenuo, non si accorti niente. Cioè, invece c'è io questo mio padre, perché a me proprio questa cosa qua non esiste, insomma. Cioè, dite per esempio, il mio padre come è cattivo, cioè, la settimana scorsa, mi ha detto un'amica, una mia casa, cioè, se siete massima, una ghiacchia, una cosa, e allora, cioè, io, una notte, mio padre ha detto, ma, qua c'è un capello, e, le uccine spussate, c'è un odore in casa, c'è un odore in casa, vabbè, io sì, mi ha detto un'amica, una mia, cioè, non è che ho visto che fosse, una ghiacchia, una cosa, qua non deve venire nessuno, cioè, cioè, ma, 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 ça va dici. Cioè, ci si rende niente, c'è, cioè, però, vi vedi, come, 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 c'è, come è cattivo mio padre, questo no, questo così, questo no, cioè, cioè, se ero figlio di Andreotti, c'è no problemi, così, un mega po di donne vera, eh.